per chi più o meno alla meta avrà riconosciuto le note di mesh il film di robert altman che proprio in questi giorni compie 50 anni allora è giusto dedicargli uno speciale anche perché un film a suo modo ormai leggendario nel 1968 gli americani si sono andati in fangare una guerra brutta sporca e cattiva che non gli sta andando nemmeno troppo bene in patria ormai sta montando la contestazione studentesca e per quanto riguarda hollywood beh ci sono i venti gli echi di un cinema nuovo diverso 1965 esordito nelle sale games storie nel 69 easy ride darà proprio vita alla nuova hollywood siamo nel 1968 quando rig randoneer junior uno sceneggiatore raffinato nel 1942 ha vinto anche l'oscar per un film la donna del giorno che tra l'altro sul set san c l'amore storico tra spencer tracy e che tri eburg vinse l'oscar però io poi finì addirittura in carcere perché la commissione per di attività anti americane l'occaso appunto di essere comunista lui non fece i nomi ed è uno dei dieci di hollywood punto circa vent'anni dopo vuole tornare alla ribalta aveva letto in anteprima un romanzo si chiama mesh a novel about three army doctor l'aveva scritto un tale richard hooker era dichiaratamente un pseudonimo in realtà era lo scrittore è un ex chirurgo new yorkese che si era divertito un po prendere in giro i colleghi soprattutto in campo militare coglie le potenzialità di questo romanzo e lo propone a ingo priminger che era il fratello del più famoso regista 8 riescono a farsi produrre film dalla 20 century fox scrive una buona sceneggiatura ma questa sceneggiatura viene rifiutata da una quindicina di registri pare anche kubrick mike nichols george roy hill insomma tanti grandi nomi rifiutarono questo film alla fine finì sulla scrivania di robert altman che all'epoca aveva 44 anni aveva appena diretto quel freddo giorno del parco non aveva 44 anni per gli americani è ormai una un'età importante per un regista per noi sono giovani i registi del loro a 24 anni già già sono avviati spilber lucas eccetera eccetera e coglie delle potenzialità anni prima aveva impiegato circa quattro anni per dirigere un film dei chicane ed hoax altman era stato un pilota militare durante la guerra e voleva appunto aveva fatto anche una serie tv che si chiama combat che comunque era stata sospesa perché era troppo innovativa per gli standard del pubblico pomeridiano del sabato e penso visto che all'epoca non era stato possibile che non avevo sufficiente potere contrattuale e non potevo produrre un film così importante questa è l'occasione buona nella sua testa è tutto molto chiaro e lo dice al produttore preminger ha detto io comunque in mente un film totalmente disarticolato che non segue le regole nella narrazione tradizionale hollywoodiana produttore nicchia tutto sommato pensa di avere il controllo di questo non più giovane ma quasi sordiente aveva fatto solo quattro film al cinema regista la preposizione si svolge anche abbastanza serenamente preminger sceglie direttamente eliot guld che aveva due film alla sua alle sue spalle donna satelman due attori promettenti altman ha subito l'idea di trasformare questo film che la storia principalmente di 23 chirurghi un campo di battaglia perché mesh è un acronimo significa mobili armi surgita hospital sono gli ospitali da campo che si trovano a tre chilometri dal dal fronte di trasformarlo in un film corale e quindi va a fare letteralmente scouting a filadelfia nei teatri è raccolta tutta una serie di attori e per giustificare la loro presenza in quanto attori importanti non protagonisti inventa nomi inventa battute gli dà gli dà importanza altrimenti la produzione non avrebbe accettato tutta questa questa serie di attori nuovi tanto è vero che nel film vedete tantissime introduzione introduzione sono circa una quindicina in italiano diremmo per la prima volta sullo schermo le riprese iniziano il 16 aprile 1969 sulle colline di santa monica dove la fox degli studio dei ranch tra l'altro la fortuna giunge in aiuto ad altman anche perché pochi giorni prima una serie di alluvioni rendono il set una sorta di pantano di solito queste queste situazioni ambientali sono delle sciagure nel caso di altman invece furono molto utili perché resero il terreno molto più selvaggio più più autentico non ci furono grandi problemi durante le riprese perché altman individua subito qual era la chiave di lettura produttiva del film essere il più anonimi possibile basso profilo non vantiamoci in sala mensa perché in quello stesso periodo la fox stava producendo due film a carattere bellico molto più impegnativi patto sulle geste del storico generale d'acciaio e tora 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 e tra l'altro avevano un impegno produttivo notiero e patto 12 milioni di budget alcune fonti di dollari chiaramente parlano di 18 tora 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 25 e mezzo mesh solo 3 milioni e mezzo quindi era molto meno più impegnativo la stessa produzione non credeva molto nelle potenzialità del film ha detto era il classico prodotto destinato poi forse direttamente i draw in giusto per recuperare le spese solo anni dopo altman scoprì che elliot gould e donald saturn dovremmo dire due attori protagonisti in un film che non vede nessuno protagonista in realtà andarono da premie a lamentarsi per i metodi di lavorazione di direzione di del regista perché lasciava troppo spazio libero agli attori la sala letteralmente la possibilità di riempire gli spazi e perché erano un po gelosi dedicava troppe attenzioni a tutti gli altri membri della della truppe loro erano le star altman disse anni dopo se l'avessi saputo durante le riprese avrei abbandonato il film fortunatamente non è successo le riprese terminano l'11 giugno 1969 tre giorni in anticipo rispetto il piano di lavorazione e mezzo milione di dollari risparmiato che per le produzioni sono sempre ottime notizie però altman ha visto il film a quattro problemi almeno il primo lui stesso si accorge che il film è un po sfilacciato manca di una certa coesione nonostante aveva quest'idea di una narrazione antitradizionale e ha subito un'intuizione geniale quella di inserire questo questo megafono con queste voci di correnti con il tanto subentono nel nel film come una lettera una punteggiatura del film tra l'altro prendono dei memoriali militari delle informazioni che insomma che venivano trasmesse proprio durante la guerra quindi le riscrivono anche in chiare satirica addirittura inseriscono anche un memo che la fox ha distribuito all'interno dei suoi studios sono per far sì che tutti gli uffici gli ambienti del lavoro fossero il più puliti possibile puliti nel senso niente foto di donne nude appese o cose o cose strane è una soluzione geniale che dà ancora più forza al film l'altro problema è che quando lo sceneggiatore vede il film diciamo non la prende benissimo anzi dice proprio a chiare lettere ad altman detto non c'è più manco una parola di tutto quello che avevo scritto ma soprattutto i due problemi sono altman aveva spogliato il film di tutti i riferimenti della guerra di corea questo film è ambientato durante la guerra di colea dice nessuno più se la ricorda degli americani ma soprattutto per noi è importante la ferita attuale che stiamo vivendo la guerra del vietnam tra l'altro in una scena si vedono dei personaggi orientali che camminano con degli strani cappelli che sono tutt'altro che coreani ma sono dietro niti la produzione non si accorge di questi sotto e sfuggi però per rendere più chiaro possibile firma all'inizio mette proprio una disascaria e corea ma è uno di questi uno di quei classici casi dove si legge corea ma cioè si scrive corea ma si legge si legge vietnam l'altro problema quello più importante che nel film ci sono molte scene durante le operazioni d'altronde masch appunto è un campo militare questi chirurghi rattoppano letteralmente i soldati che arrivano continuamente dal campo dal fronte è la produzione giudica troppo crudi caso tra l'altro altman chiese la consulenza di un vero chirurgo e spesano anche molto tempo per stabilire le varie gradazioni di colorazione del sangue nelle varie situazioni anche qui il caso la fortuna giunse in soccorso di altman perché il mega produttore della foc dalla fox che ormai viveva in francia tornò dalla francia con due gentili signorine francesi quando vede il film si sa rabbia ho detto queste parti vanno tagliate e rigilate ma le sue due accompagnanti di ci le trovarono geniale l'altro detto no com'è la parte più interessante del film e le parti rimasero rimasero anche perché da buon produttore che coglie il fiuto e il cambiamento dei tempi preminger organizzò un'anteprima speciale tra l'altro subito dopo un'anteprima di batch cassidy in un teatro con 3.000 persone andò benissimo e quindi la fox capì che il film aveva potenzialità economiche non piacque al pentagolo che tra l'altro vietò lo bandì ma questo crea ancora più curiosità nel campo militare perché i soldati prendevano la licenza per andare a vedere questo questo mesh ma fu un successo commerciale strepitoso pensate per ironia della sorte mesh quell'anno fu il terzo incasso maggiore incasso degli stati uniti d'america alla fine raccolsi 81 milioni precedendo proprio pattonon che fu il quarto incasso e tora 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 che fu il nono i due film che doveva essere quelli molto più importanti e dei successi annunciati erano dietro mesh gli storici secondo posto c'era airport e al primo love story in italia arrivò diciottesimo negli italiani siamo sempre un po più lenti e più conservatori in francia ottavo mi sembra non a caso al festival di cannes ottenne la palma d'oro da quel momento il nome di robert ottman incominciò a diventare famoso anche in campo internazionale e per non farsi mancare nulla fu candidato a cinque premi oscar e vinse solo uno paradossalmente per la migliore sceneggiatura non originale e in quel caso sceneggiatura non si lamentò da un punto di vista critico il film inizia già con una sequenza meravigliosa che indica quale sarà poi il tono del film questi elicotteri che planano sul sul campo dell'ospedale militare con questa musica anche po dolce nove anni prima di apocalips now noi abbiamo una sequenza di elicotteri in campo di battaglia con un messaggio ugualmente pacifista anche se una situazione di a terra di armento aumento opposta in apocalips now quegli elicotteri stanno andando a bombardare adoro il sapore del napolo d'ore nel napolo la prima mattina dice robert duval e robert duval è presente anche il match e invece qui portano i risultati di quei bombardamenti perché la metafora è chiara il chirurgo e il soldato è il soldato il nemico e il bisturi e il fucile è il nemico perché non ti puoi permettere di morire se il soldato muore sotto i ferri del del medico la lo ha tradito altman punto gira un film dichiaratamente satirico con toni anche molto molto bassi non in punta di fioretto volutamente non è una ri non è un'igolinea in punta di fioretto combattute a volte anche un po grevi perché la vera volgarità secondo lui era proprio la guerra era proprio l'idea di mandare i figli d'america a combattere a morire o al massimo essere rattoppati e una volta rattoppati ricuciti a ritornare sul campo di battaglia quindi non c'è nessuna battuta sufficientemente volgare quanto invece la volgarità l'orrore della guerra è giocato su questa dicotomia tra i piaceri della carne perché in questo modo facendosi scherzi dedicandosi agli amplessi alle bevute eccetera è l'unico modo forse per rimanere sani di mente sul sul campo di battaglia perché l'ospedale è il campo di battaglia non è una metafora è la carne maciullata della della guerra tutto raccontato con uno stile visivo molto libero anarchico la fotografia è volutamente sporca poco nitida usarono dei filtri anche tre sulle macchine da presa l'aspetto sonoro è quello che poi renderà famoso altman nel mondo cioè l'idea di dar vita dei dialoghi che si sovraccavallano che non sono così puliti le persone si parlano addosso cosa che era vietatissima a hollywood addirittura c'è questo altoparlante che interviene a volte anche a tradimento pensiamo a quando viene trasmesso in stereofania in tutto il campo in tutto l'ospedale militare l'amplesso tra hot lips bollore e robert duval l'idea appunto è quella di smetizzare la guerra di sacrandola pensiamo all'idea di dare tutti questi soprannomi ai personaggi occhio di falcon robert duval trappola richiamano più l'ambiente indiano oppure vincanto il prete del campo militare bollore la capo infermiera o peggio ancora cassio d'oro cassio d'oro perché aveva l'ammirazione di tutti i colleghi quando faceva la doccia per intenderci è una sorta di rock così freddi però anche cassio d'oro fa cilecca e allora non vale più la pena vivere dopo che hai fatto cilecca è lì alta in soluzione geniale di altman che organizza una autentica ultima cena ricostruendo forse per la prima volta sullo schermo la famosa ultima cena cristiana in chiave laica in chiave militare perché tutti i compagni del campo di battaglia cassio d'oro gli organizzano questa ultima cena e per rendere ancora più simpatica più non senza più stupida chiese al figlio di scrivere una canzone figlio con l'epoca aveva 14 anni e strimpellava la chitarla abbastanza stupida figlio scrisse questa canzone suicide in painless e senza dolore piacque la produzione che lo pagò pure tra l'altro per ironia della sorta poi altman fu pagato 75 mila dollari per per mesh che per la produzione come abbiamo detto fu un grande successo il figlio di altman fu pagato di meno ma poi i diritti nel corso degli anni le royalty della canzone che hanno fruttato milioni e migliori di dollari la canzone piacque talmente tanto che poi ovviamente musicata da un professionista diventerà come sappiamo anche la canzone dei titoli di testa nella seconda parte il film e doverso dirlo perde un po di efficacia lo stesso altman ha sempre detto che non amava la trasferta in giappone di donna sotten da eliot cool ovvero che di falco e trappola perché faceva perdere un po ritmo il film distoglieva da quella che era l'attenzione e il messaggio pacifista del film ma nonostante questo comunque il film mantiene la sua carica versione con un gran finale ci sono tanti momenti deliziosi anche dissacranti pensiamo quando l'altoparlante dichiara che si è smarrita l'ennesima cassa contenente plasma di sangue umano a certo punto l'inquadratura è proprio su una cassa di human blood l'apron invece contiene lattine di birra c'è c'è chi ha trasformato l'acqua in vino e altman ha trasformato il sangue umano in birra considerato che altman era di formazione religiosa non c'è nessuna attenzione provocatoria e offensiva nei confronti della regione è un modo per sdramatizzare un modo per mantenere la sanità mentale quando tutto attorno invece andava a rotoli questi cadaveri continuavano militari feriti continuavano arrivare sono passati 50 anni che non si sentono per un film che mantiene tutta la sua intelligenza tutta la sua ironia e tutta la sua freschezza la carriera di altman poi la conosciamo ed è l'occasione per festeggiare uno splendido cinquantenne ciao